Sono Simone Palmieri, progettista di giardini e spazi verdi. Nel corso della mia attività professionale, grazie al contatto con i miei clienti, ho potuto constatare come attorno al mondo del giardino e del verde ornamentale esistano molte false credenze ed in generale scarsa informazione. È difficile reperire informazioni sulle piante, sul giardino e sulla sua corretta gestione e quando disponibili queste sono spesso lacunose ed inesatte. Si tratta di un problema che espone i committenti al rischio di rivolgersi a professionisti poco preparati e sottopone le piante dei nostri giardini a trattamenti inappropriati e dannosi. Ho quindi pensato di dare, per quanto possibile, un contributo nel divulgare presso un pubblico più ampio informazioni corrette sulle piante e la loro gestione, sul giardino, la sua storia e la sua corretta progettazione attraverso una campagna di video presente sui canali web e le reti sociali. Mi avvarrò anche del contributo di ospiti autorevoli e desiderosi di accrescere presso il pubblico l'amore per la natura e la conoscenza del giardino che ne ha la massima espressione. Spero che troverete i miei video interessanti ed utili, per cui vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e a seguirmi sui social networks. A presto!